Attenzione, alle auto 9, 12 e 7 che si trovano nella zona del porto. Emergenza, a via degli orefici un uomo da un terrazzo sta sparando sulla strada. A via degli orefici un uomo da un terrazzo. A via degli orefici un uomo da un terrazzo. A via degli orefici un uomo da un terrazzo. A via degli orefici un uomo da un terrazzo. A via degli orefici un uomo da un terrazzo. A via degli orefici un uomo da un terrazzo. A via degli orefici un uomo da un terrazzo. A via degli orefici un uomo da un terrazzo. A via degli orefici un uomo da un terrazzo.